Una piccola insicurezza e Leonzio velocemente porta in attacco la sua squadra, decide ora di ragionare, fuori nuovo per Alessandrini che ha spazio per tirare, si prende il tiro da tre, prima di recuperarlo facendo commettere all'infrazione di 5 secondi, ora l'attacco per l'agribertà Chiorginovi. Leonzio la dà da campo che si butta dentro, difeso da Baldassarre, Leonzio. Trapani si butta dentro, va a segnare, subire il palco. Ora Trapani la dà a Planezio che si butta dentro, tira, segna, punti per lui. Buona la sua prova. Trapani trova una mezza via libera nella difesa del Infodrive. Alessandrini ora si butta dentro e va a segnare due punti da con cui, che è mancata in queste ultime difese probabilmente. E qui altra disattenzione difensiva da parte di Capodorlandi. Palla fuori comunque ora per l'agribertà Chiorginovi. con Trapani che si alza la tre e segna la tripla.